Il mio titolo è dal codice alla costituzione, vorrei partire dalla costituzione. Il testo della costituzione italiana è un testo in cui il cattolico si trova a suo agio e contiene un ampio spettro di principi in cui non facciamo fatica a riconoscerci, eppure la costituzione italiana certamente non è un testo confessionale né avrebbe potuto esserlo dato che l'assemblea costituente aveva una composizione fortemente articolata, oggi diremmo fortemente polarizzata e comunque profondamente divisa nei numeri e negli orientamenti culturali e politici. Lo ricordo per i meno addetti ai lavori, i democristiani erano sì una presenza importante, ma contavano 207 deputati su 556 e il blocco dei socialisti e comunisti li superava numericamente con 111 e 104 deputati rispettivamente, senza considerare l'apporto importantissimo di gruppi più esibili numericamente ma con personalità molto forti che facevano riferimento al liberalismo classico. Dunque, date le condizioni, in assemblea costituente il partito cattolico non poteva cedere a una tentazione egemonica perché prima di ogni altra considerazione non aveva i numeri per poter imporre le proprie convinzioni. A questo si aggiunga che peraltro il cosiddetto partito cattolico non esprimeva sempre delle opinioni concordi e unanimamente condivise, c'erano idee anche molto diverse sui vari temi da trattare e sui rapporti da tenere con l'autorità ecclesiastica. La Costituzione italiana dunque è una Costituzione di tutti, come dimostra il fatto che fu votata da un'amplissima maggioranza 458 deputati su 520 votanti. Il clima era dominato da una comune tensione di tutte le forze politiche a far prevalere le ragioni dell'unità su quelle dell'affermazione identitaria delle singole componenti. Qualche anno fa Enzo che gli scrisse un libro con una bella espressione, il titolo era nata per unire e a mio parere questo titolo coglie bene il clima di quell'epoca, basterebbe ricordare l'episodio di come fu votato l'articolo 7 della Costituzione italiana, quello che fa riferimento al concordato ai patti lateranensi in cui l'esito positivo fu sbloccato da Togliatti con sorpresa di tanti componenti dell'Assemblea Costituente a partire dai suoi, oppure per converso l'episodio in cui la Pira dopo aver proposto un preambolo con un'invocazione a Dio lo ritrasse perché c'era un clima non favorevole. Insomma il miracolo della Costituzione italiana è quello di aver redatto in pochi mesi un testo certamente non perfetto ma in cui anche nel tempo tutti potevano riconoscersi e a mio parere è proprio qui che il contributo dei cattolici è stato tutt'altro che secondario. I cattolici sono arrivati preparati all'appuntamento costituente, forse più preparati di altre forze politiche e qui non mi soffermo perché hanno già detto molto e bene il professor De Siervo, Guasco ma anche ieri torresi e tanti altri. Vorrei soltanto sottolineare anch'io che il convegno di Camaldoli del 43 è stato un momento importante e quello che ne è seguito pure l'elaborazione del cosiddetto codice, se non altro perché tra i protagonisti di quest'opera, di questo codice oltre a Paronetto c'erano tanti nomi importanti per la storia politica italiana futura a partire dalla stagione costituente. Saraceno, Vanoni, Capograssi, Lapira, Moro, Andreotti, Taviani. Alcune di queste personalità entrarono a far parte dell'assemblea costituente e già questo semplice fatto è un indizio di una possibile influenza del codice di Camaldoli sulla carta costituzionale, non tanto in termini di coincidenze testuali o filologiche quanto come orientamento culturale di fondo. E in vero a mio parere questa influenza ci fu, ci sono tante cose che fanno parte del mito che è stato già ampiamente smontato da chi mi ha preceduto ma questa connessione tra il lavoro di Camaldoli e la Costituzione non è da smitizzare, è da considerare nei suoi termini realistici perché il pensiero elaborato qui soprattutto nella parte dedicata alle questioni economiche e sociali al lavoro e ai rapporti tra la persona, la società e lo Stato sicuramente è riecheggiata nei lavori della costituente e ne ritroviamo traccia nel testo costituzionale. Affrancandosi dalle ideologie dell'epoca, tanto dal liberalismo ottocentesco quanto dal corporativismo fascista, il codice è frutto di un pensiero che ha lasciato, si è fatto interrogare profondamente dai problemi più scottanti del contesto storico e sociale e dell'epoca dalla gravissima crisi economica, le guerre e il totalitarismo e ha saputo offrire punti di sintesi e terreni di incontro che hanno facilitato un lavoro comune tra tutte le forze politiche che nella assemblea costituente. Quale tipo di influenza esercitò il codice sulla costituzione? L'ho già accennato, chi ricercasse una corrispondenza testuale tra il testo del codice di Camaldoli e la carta costituzionale probabilmente resterebbe un po' deluso. Una ricerca statistica di tipo testuale di quelle che oggi si fanno facilmente con gli strumenti informatici o con l'intelligenza artificiale rivelerebbe poche dipendenze letterali dirette tra i due testi ma a mio parere una ricerca di questo genere sarebbe male impostata per due fondamentali ragioni la prima è come è stato già detto perché il codice di Camaldile in vero codice non è e non ambiva ad essere non si tratta di una raccolta di proposizioni normative idonee a essere trasferite in un altro testo legislativo o costituzionale ma piuttosto come si autodefinisce è un documento di cultura sociale composto da un'articolata e argomentata serie di riflessioni organizzate intorno ad alcuni capitoli tematici ritenuti particolarmente significativi per l'ordinamento sociale di quel momento nell'ora presente è un'espressione che ricorre nel codice che è molto bella secondo me la persona lo Stato, la famiglia, l'educazione, il lavoro, la produzione, lo scambio, l'attività economica e la vita internazionale il codice, lo dice nella premessa, non aveva la pretesa di arrivare a formulazioni o a conclusioni definitive né nella forma né nel contenuto ma voleva offrire l'occasione per uno scambio tra studiosi cattolici animati da una sincera ispirazione cristiana e aperti all'approfondimento e al confronto con altri le famose pagine bianche con cui ha concluso ieri la bellissima relazione Tiziano Torresi la seconda ragione è che un mero travaso dal codice alla carta costituzionale difficilmente sarebbe potuto avvenire il primo il codice si rivolgeva innanzitutto al mondo cattolico come testimonia rappresentazione indirizzata appunto alla comunità cristiana la seconda destinata a costruire le fondamenta condivise di una nuova comunità civile a livello nazionale tutta da ricomporre e tutta da ricostruire detto questo l'influenza ci fu e forse occorrerebbe il lavoro di uno storico con tutti gli strumenti degli storici per ricostruire in modo analitico tutti i percorsi e le migrazioni di concetti e di idee dal codice alla carta io non posso fare un mestiere che non è mio, non sono uno storico e perciò lascio ad altri ben più autorevoli autori e anche interventi di questo convegno il privilegio di questo compito del resto una ricognizione in verità è già stata fatta nel prezioso libro di Alessandro Persico sul codice di Camaldoli io mi limito a prendere due punti che mi paiono particolarmente significativi per qualche considerazione che ci porti anche a una riflessione sul metodo di Camaldoli significativo anche per il nostro oggi i due punti essenziali riguardano il rapporto tra la persona, la società e lo Stato e secondo i rapporti economici e sociali sono due punti che a mio parere tra l'altro si intrecciano molto bene sul valore della persona nei suoi rapporti con la società e lo Stato possiamo innanzitutto dire che è da sempre un tema centrale della dottrina sociale della Chiesa delle preoccupazioni della Chiesa ed è un tema non meno centrale nel costituzionalismo moderno i diritti individuali che sono una componente decisiva del costituzionalismo separazione dei poteri e protezione dei diritti nascono proprio come dispositivi di garanzia della persona di fronte al potere specie il potere pubblico dello Stato sin dalle dichiarazioni francese, quella americana che segnano la nascita del costituzionalismo le esperienze dei totalitarismi fra le due guerre in Europa avevano prepotentemente riportato al centro il problema del valore della persona comebbe a dire Giorgio Lapire in Assemblea Costituente lo Stato totalitario fu essenzialmente una crisi totale del valore della persona fino al suo annientamento fisico oltre che morale e spirituale e dunque un imperativo dei costituenti era quello di riportare effettivamente al centro la persona in una concezione di rapporti sociali e politici in cui lo Stato fosse davvero a servizio della persona e non viceversa a questo scopo occorreva e tutti erano concordi su questo sicuramente ribaltare la concezione totalitaria dei rapporti tra persona e Stato o tra Stato e persona invalsa nel periodo fascista ma occorreva anche superare l'eredità del costituzionalismo ottocentesco quella concezione individualistica liberale che non aveva saputo arginare il rompere dello Stato totalitario ed è qui nella concezione del personalismo di matrice cattolica che il pensiero dei cattolici ha saputo giocare un ruolo decisivo come naturale punto di incontro e di convergenza tra le istanze di tutti ci sono molte tracce nella costituzione di questo contributo io ho scelto di utilizzare la relazione di Giorgio Lapira nella prima sottocommissione che è uno dei documenti su cui poi si costruisce tutto il dibattito costituente insieme alla relazione di Leglio Basso in quella relazione Lapira insiste su tre aspetti fondamentali di come deve essere costruito il rapporto tra Stato e persona l'anteriorità della persona rispetto allo Stato la necessità di accompagnare i diritti di libertà con la tutela dei diritti sociali e il ruolo delle formazioni sociali sul primo punto, sull'anteriorità della persona rispetto allo Stato così platealmente negata dal fascismo troviamo che questo concetto è ripreso quasi testualmente nell'articolo 2 della Costituzione italiana quando si insiste sul verbo riconoscere la Repubblica riconosce e garantisce i diritti quel riconoscere è una testimonianza e una sintesi di quell'idea per cui la persona viene prima dello Stato la persona è valore assoluto come diceva il codice di Camaldoli è radice e fondamento di tutti i diritti di libertà questa espressione che ritroviamo nel codice ribalta quella affermazione che era stata oggetto di una condanna già del sillabo per cui lo Stato è fonte di tutti i diritti e che all'epoca aveva portato la Chiesa a separarsi dalla vita statale con il famoso non è expedite il secondo aspetto su cui insiste la relazione di Lapira è la necessità di completare il catalogo dei diritti di libertà con i diritti sociali la ragione è che quei diritti di libertà se non si radicano in condizioni di vita sociali ed economiche adeguate sono mera retorica non hanno la forza di garantire quell'obiettivo per cui sono stati formulati infatti dice Lapira senza la tutela dei diritti sociali il diritto al lavoro, al riposo, all'assistenza eccetera la libertà e l'indipendenza della persona non sono effettivamente garantite c'è questa sottolineatura dell'effettività delle garanzie della persona e questa sottolineatura riecheggia l'insistenza che c'è nel codice di Camaldoli su quelle esigenze di giustizia sociale che ricorrono in molti punti e anzi ne sono in qualche modo l'innervatura inutile osservare quasi inutile osservare che questa richiesta di garantire i diritti sociali incontrò facile accoglienza nell'ambiente della Costituente in quanto fecondo terreno d'incontro tra il cattolicesimo sociale e il socialismo contemporaneo il terzo aspetto qualificante della proposta di Lapira in Assemblea Costituente riguarda l'estensione della titolarità dei diritti che dagli individui devono anche abbracciare le comunità naturali questa è l'espressione che c'è nella relazione quelle che poi nell'articolo 2 compariranno sotto il nome di formazioni sociali famiglia, comunità locale, comunità religiosa comunità di lavoratori e che troveranno ampio riconoscimento oltre che nell'articolo 2 in tutto il testo della Costituzione e anche qui il lavoro del codice di Camaldoli è la matrice da cui si attinge perché in quel codice il valore fondamentale delle comunità intermedie si riconosce nell'ampio spazio che viene dedicato alla famiglia alla scuola ma anche ai sindacati all'organizzazione dei lavoratori alle organizzazioni datoriali alle associazioni professionali oltre che naturalmente alla Chiesa e tra l'altro si ritrova spesso un'espressione la formula individui, famiglie, gruppi e istituzioni per riferirsi a tutte le forze sociali la cui organizzazione si chiama Stato in sintesi tutti questi punti così qualificanti della Costituzione italiana nascono dalle proposte di Latira che, guarda caso fu un protagonista di spicco dei lavori dell'Assemblea Costituente ma anche attivo partecipante almeno i primi lavori di Calmandoli nel gruppo dei giuristi che forse non erano proprio la punta di diamante dominavano qui gli economisti credo come creatività e anche personalità e comunque Latira fu continuamente uno dei grandi interlocutori stimati da Sergio Paronetto che lo sappiamo è il vero regista di tutta questa vicenda quindi la presenza nei luoghi decisionali di alcune persone qui ho parlato di Latira tra un minuto arriverò a Paolo Emilio Taviani si è rivelata un ponte naturale su cui le riflessioni maturate a Calmandoli potevano agevolmente transitare ed essere offerte alla considerazione di tutti in Assemblea Costituente ma questa presenza non sarebbe stata di per sé sufficiente ad assicurare il successo di quelle idee se esse non fossero state offerte in termini comprensibili condivisibili e convincenti anche alle altre parti politiche senza cedimenti ideologici ma in modo tale da poter diventare patrimonio comune in un contesto così plurale come quello che abbiamo visto è connotare l'Assemblea Costituente e significativa almeno su un punto che riguarda questa tutela dei diritti fondamentali è la naturale sintonia che si è venuta a creare tra la relazione di Latira e quella di Leglio Basso di formazione e di cultura socialista su quella che lui definiva la naturale socialità della persona e Leglio Basso completò fu il promotore a lui si deve la proposta di quell'altro grande architrave insieme all'articolo 2 che è l'articolo 3 della Costituzione italiana in cui compare non solo l'uguaglianza formale di tutti i cittadini davanti alla legge ma quella uguaglianza sostanziale che è veramente un unicum del nostro costituzionalismo che nelle parole della proposta di Leglio Basso quasi testualmente riprese poi nel testo finale vincola la Repubblica a rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto l'uguaglianza e la libertà degli individui impediscono sentite le parole originarie il pieno raggiungimento della dignità della persona umana il pieno sviluppo fisico intellettuale morale e materiale di essa cambieranno leggermente nella formulazione finale ma questa idea di guardare all'uomo nella sua concretezza alle esigenze pratiche alla effettività delle condizioni di vita è quello che ha caratterizzato un grande passo anche nel costituzionalismo da quello moderno a quello contemporaneo e del resto erano proprio le temperie della storia a chiedere questo pensate che lo sappiamo tutti negli Stati Uniti il presidente Roosevelt stiamo parlando degli Stati Uniti non propriamente una democrazia aperta a influenze di tipo socialista o progressista nel famoso discorso allo Stato dell'Unione del 41 parlava delle quattro libertà tra cui vi è la libertà dal bisogno e dalla miseria altrove nella cultura francese si parlava di guardare all'on situé cioè a quello sguardo nella concretezza della storia ed è qui proprio il ponte che ci porta naturalmente a questo importante pilastro del contributo dato a Camaldoli sui rapporti tra persona società e Stato a quell'altro grande fattore di contributo originale che è nato in queste sale che riguarda invece i rapporti economici e sociali qui il codice di Camaldoli ha davvero segnato un punto di novità nel costituzionalismo ma anche nelle posizioni precedentemente sostenute dal pensiero cattolico qui si prende le distanze dal corporativismo perché gli autori del codice si erano resi conto che l'idea delle corporazioni non aveva più nulla che vedere con quella matrice un po' ideale dell'epoca medievale a cui tradizionalmente si faceva riferimento ma erano del tutto inseparabili dai regimi autoritari e dall'interpretazione che del corporativismo si era data in quell'epoca che era diventato una forma di controllo e di oppressione dello Stato sulla società e tuttavia il codice non è significativo soltanto per il superamento che esso determina rispetto a posizioni precedenti ma anche in positivo per la sua capacità di prefigurare un nuovo e originale ordine economico e sociale non è automatico avvertire la necessità di superare il passato e di saper proporre qualche cosa di nuovo questo invece accadde a Camaldoli e credo che abbia molto a che fare con quel metodo su cui cercherò di tornare alla fine che sottolineava Guasco poco fa e cioè che si trattava di persone che avevano una conoscenza diretta di come funzionavano le cose Paronetto oltre che essere il regista di Camaldoli era uno degli uomini di riferimento del Liri quindi vedeva vedeva concretamente come operativamente si svolgevano i rapporti economici tra i tanti temi che si potrebbero esaminare su questo punto perché davvero Camaldoli è ricchissimo in questi termini c'è una parte anche la più estesa forse materialmente mi soffermo un attimo sulla proprietà privata che è riconosciuta nel testo costituzionale all'articolo 42 come diritto della persona ma non più come diritto inviolabile come invece accadeva nello statuto Albertino e in tutte le costituzioni dell'epoca liberale ma anzi è riconosciuta in quanto dotata di una funzione sociale alla proprietà privata nel codice si dedicano molte pagine soprattutto nel capitolo dedicato alla produzione e allo scambio quindi si fa riferimento in particolare implicitamente alla proprietà dei mezzi di produzione ma non solo ed è lì che si trovano molti enunciati e molti principi volti a concretizzare quella giustizia sociale come principio direttivo della vita economica che secondo gli autori del codice legittimano non soltanto un ruolo dello Stato come regolatore e coordinatore delle iniziative dei privati ma anche come attore diretto delle attività economiche di Ritocet in questo contesto si incontrano molte enunciazioni che risuonano anche nella Costituzione a partire dalla definizione l'articolo 42 dice la proprietà è pubblica e privata quindi ci sono possibili soggetti tra l'altro con un'inversione non è privata è pubblica ma è pubblica e privata che riprende quasi testualmente l'incipit del paragrafo 72 del codice di Camaldoli ma soprattutto a mio parere è interessante una concezione che esprime una duplice funzione della proprietà che è strumento di libertà delle persone la possibilità di detenere dei beni è appunto nella concretezza uno strumento di libertà ma è anche funzione sociale contributo alla realizzazione del bene comune e della giustizia sociale ed è questa concezione che si riflette nel testo costituzionale e da cui conseguono tutta una serie di corollari che tra l'altro Paolo Emilio Tarveani esprime proprio testualmente nella sua relazione alla terza sottocommissione in assemblea costituente e che riguardano la regolazione in modo di trasmissione dei beni e tante altre cose anche in questo caso al conseguimento del successo delle idee di Camarito li ha sicuramente contribuito l'affortunata coincidenza delle autori delle pagine del codice e quello del relatore in assemblea costituente ma anche la maturità del pensiero cattolico su questo punto che ha saputo intercettare le esigenze dell'epoca storica e ha saputo far convergere su un tema che a quell'epoca era tra i più divisivi e ricordiamoci che i cattolici si confrontavano con i comunisti dove l'idea della proprietà privata non era particolarmente naturale accogliere e tra l'altro anche con visioni opposte quelle del capitalismo liberale dell'idea del mercato liberale che invece rifiutava qualunque tipo di intervento del ruolo pubblico sulla regolamentazione delle attività economiche della proprietà intorno a un punto di caduta e di sintesi che si sarebbe nel tempo manifestato fecondo e anche aperto a una pluralità di declinazioni possibili nel corso delle vicende storiche perché quella parte della Costituzione è davvero una finestra aperta sul mondo economico che ha ricevuto interpretazioni diverse non l'ultimo per il fatto di essere inserite anche in un contesto più ampio quale è quello dell'Unione Europea che in materia ha le sue cose da dire questo esercizio di raffronto tra le idee non le formulazioni tra le idee e gli orientamenti del codice e la Costituzione potrebbe essere proseguito in molti altri ambiti ma qui io vorrei fermarmi per trarne in conclusione qualche riflessione due riflessioni di metodo che possiamo anche oggi trarre dall'esperienza di Camaldoli e che ci possono far guardare anche al nostro futuro al nostro contributo possibile al mondo di oggi la prima considerazione è che gli studiosi cattolici riuniti a Camaldoli prelevano sicuramente ispirazione dal Magistero della Chiesa in particolare dai ricchi documenti che sono stati ricordati di cui si componeva la dottrina sociale come dimostra il fatto che la prima parte del testo riassume e riordina negli enunciati tutto ciò che deriva dalla tradizione e li pongono come punto di partenza per le loro riflessioni ma appunto sono solo un punto di partenza per un lavoro ulteriore di approfondimento di elaborazione di sviluppo da condursi con l'apporto professionale di economisti turisti altri esperti di scienze sociali ma non soltanto studiosi accademici anche persone che vivono nel mondo appunto delle professioni e alla luce delle concrete situazioni storiche in vista delle necessità contingenti della vita economica e sociale di quel determinato momento storico il codice di Camaldoli è intriso di realismo e di storia e in questo a mio parere è un fattore decisivo che spiega anzitutto come diciamo così ad intra il codice abbia dato uno sviluppo al pensiero sociale cattolico e non una mera ripetizione nemmeno una mera attuazione delle posizioni dell'autorità ecclesiastica o ciò che derivava dalla tradizione c'è un'originalità nel codice che non corre il rischio di essere sopravvalutata soprattutto negli ambiti che ho sottolineato la seconda considerazione diciamo così di metodo è questa il codice si rivolge alla comunità cristiana per la comunità cristiana però nasceva con l'esplicito intento di poter dare un contributo alla vita civile politica per la ricostruzione di un mondo più umano e più giusto dopo la catastrofe ed espressione presa dalla premessa dalla presentazione scusate e in ambito civile i protagonisti di Camaldoli sapevano molto bene di doversi misurare con un contesto plurale niente affatto omogeneo diviso con aspre punte di anticlericalismo e sapevano anche di non avere la maggioranza o meglio come tutti i protagonisti politici dell'epoca non sapevano se avrebbero avuto la maggioranza questo fu la forza di quella stagione costituente John Rawls userebbe l'espressione che la costituzione fu scritta dietro un velo di ignoranza quel velo di ignoranza non è perché non sapessero non conoscessero le cose anzi avevano un'elaborazione culturale straordinaria ma l'ignoranza è il non sapere di essere vincitori e questo mise tutti nella posizione di scrivere come se avessero potuto trovarsi in una posizione minoritaria per cui le loro convinzioni dovevano diventare convinzioni condivise e non tutte erano successo perché per onestà dovremmo dire che alcuni temi trattati a Camaldoli non furono recepiti nella Costituzione per esempio alcuni profili della famiglia il tema di costituzionalizzare l'indissolubilità del matrimonio oggi non ci sfiora neanche lontanamente all'epoca era un tema di battuto De Gasperi non era favorevole al scrivere nella Costituzione l'indissolubilità della famiglia altri costituenti sì ma comunque trovarono la chiusura da parte dei relatori su queste tematiche oppure in materia di educazione l'apporto di Camaldoli su alcune questioni fu decisivo ma su altre fu perdente per esempio il relatore di base sull'educazione sulla scuola era Aldo Moro non era proprio un nessuno alcune delle sue idee furono molto ben recepite ma quando propose non si sa con quanta convinzione che in tutte le scuole dello Stato dovesse essere insegnata la religione cattolica secondo la tradizione della Chiesa costituzionalizzandola a questo punto non fu recepito e allora è interessante notare poi questa parte era dentro nel concordato che è un'altra faccenda ma la costituzionalizzazione vuol dire una cosa diversa e allora è interessante notare che le parti del codice rimaste più ai margini del lavoro costituente furono quelle più marcatamente identitarie o se volete confessionali o quelle che tendevano a riproporre il magistero ecclesiale così com'era mentre i punti di forza furono altri contenuti quelli su cui abbiamo insistito e altri ancora ma aggiungo qui ed è la mia ultima considerazione anche l'ampia e fitta trama di relazioni che intorno al codice si è intessuta in ambito cattolico tra Milano e Roma come è stato ricordato ma anche oltre l'ambito cattolico via rena via reno era veramente un punto di scambio particolarmente significativo non soltanto per i cattolici e rinvio alle pagine di Tiziano Torresi su questo punto ma anche di tanti altri quindi quei cattolici si ritrovavano qui si ritrovavano fra loro per approfondire le loro convinzioni ma vivevano pienamente non c'è contraddizione tra questo il loro mondo da laici immersi nei problemi di tutti e nei rapporti reali di tutti e allora vorrei concludere su questa osservazione relativa proprio al valore delle relazioni ai valori dei rapporti c'è un aspetto che amo sottolineare sempre ai miei studenti del primo anno e anche quando vado all'estero a parlare della Costituzione italiana perché a mio parere la contraddistingue in un modo con un tratto unico e davvero assolutamente originale anche nel panorama comparato riguarda il fatto che la prima parte della Costituzione quella dedicata ai diritti fondamentali ha una sistematica originale perché è organizzata in quattro punti in quattro titoli ciascuno dei quali è dedicato intitolato ai rapporti titolo primo rapporti civili titolo secondo rapporti etico-sociali titolo terzo rapporti economici titolo quarto rapporti politici rapporti non mi risulta che ci siano altri esempi di questo genere certo sì ci sono tante carte che organizzano i diritti non come un mero elenco ma raggruppandoli per tematiche per esempio la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che è una delle carte più recenti stata scritta nel 2000 è organizzata intorno ad alcuni valori libertà eguaglianza dignità solidarietà giustizia eccetera ma la costituzione italiana è l'unica che dedica tanta importanza ai rapporti al punto da farla diventare un criterio di ripartizione del testo e qui a mio parere il cerchio si chiude rapporti il personalismo cattolico la persona è ritratta nel testo costituzionale attraverso i suoi rapporti il titolare dei diritti fondamentali è il singolo e i suoi rapporti le sue formazioni sociali ma qui il cerchio si chiude come indicazione di metodo il contenuto e il metodo coincidono per molti dei nostri costituenti e sicuramente per i protagonisti di Camaldoli il valore delle relazioni per la persona umana non era soltanto teorizzato proclamato non era stato soltanto oggetto di proposizioni costituzionali ma era stato anzitutto vissuto in una fitta trama di relazioni intensamente significative anche quando non del tutto concordi che li resero pronti quando fu necessario a disporsi in ascolto di chi portava istanze anche fortemente contrastanti con le loro e qui credo risieda a mio parere un duplice contributo di Camaldoli da un lato l'originalità e la novità che portarono nella fase costituente e dall'altro la loro grande autorevolezza e credibilità in questa coincidenza tra il pensato e il vissuto tra l'enunciato e lo sperimentato o se volete tra la cultura e l'esperienza è questo che li rese interlocutori autorevoli delle altre parti politiche e indiscutibilmente protagonisti della storia grazie applausi allora quarta relazione e ultima della mattinata Alessandro Angelo Persico che insegna storie contemporanee, poi il titolo è più elaborato, ma insomma per capirci, storie contemporanee presso l'Università Cattolica di Milano è segretario della Fondazione Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed è particolarmente esperto di dottrina sociale cattolica e soprattutto ha scritto, come ben sapete, un libro sul codice di Camalto che è uno dei scritti più importanti e fondamentali, ma anche scritto su Saraceno e su Monsignor Bernareggi, quindi ha un approccio culturale e di studi particolarmente interessante. A lui la parola. Grazie a tutti, agli organizzatori e ai presenti. Il mio intervento intende illustrare più che la genesi del codice che è già stata ampiamente spiegata, presenza e rimozione, fortuna e trasfigurazione del testo come progetto storico che nella Prima Repubblica intendeva conciliare dottrina sociale, Stato nazionale e democrazia. Questo progetto, più che su un preciso impianto politologico, poggiava su un modello di sviluppo, una terza via fra liberalismo e socialismo, alternativa a un corporativismo che, come è stato detto, era ormai compromesso dal fascismo. Un progetto, cioè, che scioglieva il nodo della nazione come unificazione economica del Paese. La sua ricetta economica andava oltre la ridistribuzione, insisteva sull'intensificazione e regolazione del capitale sociale fisso, cioè pubblico e privato, attraverso una pianificazione che, da un lato, coinvolgesse tutti i soggetti sociali interessati allo sviluppo, dall'altro lato, assicurando una vasta concertazione politica, portasse a compimento, tramite la riduzione di squilibri e di vario, la maturazione civile del Paese, inserendo così nell'ordinamento democratico quelle masse che l'unificazione aveva lasciato ai margini della nazione. In tal senso, il Codice di Camaldoli aveva un'impostazione statalista, industrialista e neomeridionalista. Ampliò la riflessione su Stato, amministrazione pubblica e impresa, svolta negli ambienti intellettuali cattolici, fra anni 30 e anni 40, dialogando sia con gli ex popolari, sia con la magmatica sinistra cristiana. Una proposta così innovativa necessitava di un ampio sostegno. Dopo la guerra, sia Licas di Veronese, sia Moro, poi Golzio, come segretari del movimento laureati, promossero il documento come spunto di riflessione, per circoli e sezioni. Il volume venne spedito a molte personalità, ad esempio a Montini, al ministro dell'Industria, a Gronchi, a Menichella, che era l'ex direttore dell'IRI e poi alla Banca d'Italia, circolò anche nell'Istituto per la ricostruzione industriale. La sua proposta venne però poco compresa e ancora meno apprezzata, anche nell'associazionismo. Mentre si sgretolava l'unità cellinista, l'universo cattolico, appunto dalla DC alle parrocchie, iniziò ad attrezzarsi per una competizione politica più che culturale, mostrando pure un certo pluralismo, tanto nel partito cattolico quanto nell'azione cattolica, anche in merito a democrazia, la città dello Stato e libertà religiosa. Divergenze queste che emersero, ad esempio, alla settimana sociale dedicata fino al 1945 alla Costituente. Il Codice ricevette, dopo la guerra, tiepide recensioni, ad esempio sull'Osservatore Romano e sulla rivista La Scuola Cattolica del Seminario di Milano, recensioni che lo riportarono dentro la tradizionale dottrina sociale. Subì poi la concorrenza, come è già stato detto, di tanti pamflet sociali usciti nel dopoguerra, anche a firma di ex camaldolesi, penso ad esempio a Taviani, Bergolesi e a Lapira. Ogni discussione e aggiornamento del documento venne così subito consumato dalla mobilitazione del cattolicesimo, compresa la militanza civile di fucine laureatiche, appunto avevano contribuito a promuoverlo, nei grandi passaggi elettorali del dopoguerra, a iniziare da referendum e costituente. Qual è stata quindi la presenza del Codice in Assemblea, in parte l'abbiamo già sentito, la sua proposta è stata assimilata in un progetto democristiano che amalgamava attorno alla persona, culture ed esperienze diverse, dal garantismo degli ex popolari allo stato sociale della seconda generazione, in realtà, come è stato anticipato dalla professoressa Cartavia, solo in parte. La partecipazione cattolica all'Assemblea, almeno a mio giudizio, soprattutto dei più giovani costituenti, più che dar voce al Codice, anche nel dialogo con i partiti marxisti, coagulò quel gruppo d'ossettiano che, in parte proveniente dalle sezioni intellettuali dell'azione cattolica, come l'esempio Lapira, in parte docenti in università cattolica, come Fanfani, avevano solo in parte partecipato alla stesura del cogumento, soprattutto alle sue fasi iniziali. La sua limitata presenza si notava, ad esempio, nella terza sottocommissione, quella sull'inimente economici, dove si discuteva quello stato ordinatore, riformatore, che doveva costruire nuovi rapporti sociali. In questa sede né Fanfani né Taviani recepirono fino in fondo la proposta del Codice. Il primo coniugava mercato e misure espansive vagamente chenisiane contro la disoccupazione, insistendo ancora sulla cogestione operaia per assicurare partecipazione e riformare così l'economia industriale, che era un po' il grande demone della dottrina sociale cattolica. Il secondo apriva invece verso la socializzazione, ma per riproporzionare ceto preerario e proprietà. Nessuno quindi assumeva come proposta vera e propria la pianificazione del Codice, cioè la correzione del mercato per massimizzare la sinergia tra pubblico e privato, compresa l'impresa di Stato, rispetto a un'idea di sviluppo e quindi a un'idea di paese. Questa prospettiva venne soffocata dall'acre dibattito sul parastato sacista, su liri, sulla programmazione, dentro e fuori la democrazia cristiana e l'assemblea costituente. Si perse così, cioè, nella crescente polarizzazione tra statalizzazione e privatizzazione, statalismo e liberismo, che nel quadro di una crescente contrapposizione interna ed internazionale appiattirono proposte riformiste più aderenti alla fisionomia del paese. L'emendamento Montagnana, che insisteva su una pianificazione dirigista come premessa del diritto del lavoro, spostò infatti la DC su posizioni più moderate. Equilibrio fra pubblico e privato, con l'articolo 41, fu individuato perciò fuori dalla programmazione, attraverso sfumati riferimenti a uno Stato regolatore. Il codice sopravvisse così sotto traccia nella prima legislatura. Lo scontro dentro la DC fra De Gasperiani e Dossettiani mostrò quanto questi ultimi poco avessero recepito la sua lezione. L'aspettativa di una rapida realizzazione della socialdemocrazia disegnata dalla Costituzione spinse la variegata sinistra cattolica, la cronache sociali fino a Studium, verso una spesa pubblica keynesiana, con cui si apperava di integrare le masse popolari nello Stato democratico. Tale spospettiva appariva però storicamente povera, perché da un lato negava la dimensione strutturale della disoccupazione italiana, dall'altro lato deformava l'economia mista, nata negli anni Trenta in risposta alla crisi finanziaria. Questa fu la ragione per cui tanti meridionalisti quanto il mondo accademico nel secondo dopoguerra si mostrarono abbastanza freddi verso il keynesismo, rimanendo tanto interventisti quanto liberisti nel paradigma neoclassico della crescita equilibrata. Meridionalisti come Sara Ceno, uno dei due redattori della parte economica del Codice, a cavallo fra anni 40 e 50 avviarono un confronto non solo con i dossettiani, o meno non tanto con i dossettiani, ma soprattutto con quei democristiani che, al governo, sulla stabilità monetaria, intendevano avviare un riformismo che valorizzasse strumentazione dell'intervento pubblico, parte editata dal fascismo, e nuove teorie dello sviluppo, elaborate in alcuni ambienti culturali molto vivaci come ad esempio la società, l'associazione per lo sviluppo industriale del mezzogiorno, il centro studi dell'IRI e della Banca d'Italia. Il piano INA Casa, la Cassa per il Mezzogiorno, l'ente nazionale di trocarburi, tutte queste iniziative dentro una linea economica come quella di Pella, molto attenta alla stabilità monetaria, abbozzavano quello stato ordinatore che integrava pubblico e privato, regolando risparmio e investimenti, nel rispetto del mercato, ma fuori da qualsiasi programmazione. Non vi fu quindi un travaso diretto fra codice e azioni di governo, ma piuttosto un'ispirazione che muoveva da ambienti, come appunto la Svimez dell'Ufficio Studi dell'IRI, in cui stavano acquisendo concretezza, grazie all'esperienza della Cassa, nuove dottrine di sviluppo, come quelle ad esempio sulle aree depresse e sui poli industriali. Il codice quindi sopravvisse nel dopoguerra, nonostante questo scarso apparente interesse, come proposta grazie ai rapporti personali più che istituzionali, dentro una democrazia cristiana che oltretutto da metà anni 50, dopo De Gasperi, quindi dopo una lunga stagione aperta dal suo fondatore, doveva cercare nuovi equilibri interni e anche con il paese. La successione di Fanfani, appunto a metà del decennio, significò cambiamenti profondi, soprattutto una gestione del potere che intendeva impicinare imprese pubbliche e partito, per assicurare alla democrazia cristiana maggiore controllo su crescita e modernizzazione del paese. A questo servivano il Ministero per le partecipazioni statali, che è creato nel 1957, il rinnovo della Cassa per il Mezzogiorno, con compiti estesi, questa volta anche l'industrializzazione, e iniziative come la creazione del quarto centro siderurgico di Taranto, quindi un quarto centro statale di produzione d'acciaio in Italia, per sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno. Questa strategia si scontrò però con la frammentazione correntizia del partito, prima di tutto una destra ostile, ovviamente, secondariamente una poco coesa iniziativa democratica, nel gruppo di Fanfani, e terzo una base che, erede del dossettismo, aspicava una spesa pubblica più aggressiva, più incisiva, in senso chienesiano, per avviare un rinnovamento costituzionale con i socialisti. Lo schema Valoni, un ampio programma decennale addirittura di sviluppo, steso nel 1955-56 dalla Svimez, tra l'altro con un'ampia collaborazione negli organismi europei e di economisti internazionali, venne recepito da un partito che stava affrontando contraddizioni piuttosto laceranti. Primo governo Segni, nel 1957, costituì un comitato affidato a Saraceno che stendesse un piano operativo, cioè un piano per passare dallo schema alla strumentazione. La classe dirigente, che nel suo complesso aveva però riferimenti di cultura economica abbastanza diversi dai meridionalisti, accolse con freddezza una pianificazione che recuperava effettivamente per la prima volta la proposta del codice. Il comitato assegnava infatti obiettivi sociali alla programmazione, come ricomposizione di interessi e istanzi civili, che attraverso compressione dei redditi e regolazione del mercato per liberare e indirizzare risorse verso il mezzogiorno, imponevano ovviamente mediazione e un'ampia responsabilità politica. Lo schema venne quindi discusso ampiamente dentro al partito, ma soprattutto fra economisti e, nel senso più ampio, nella società civile, senza che l'ADC ne condividesse davvero impostazioni e fini. Per Fanfani, ad esempio, serviva per recuperare voti a sinistra con la crisi del centrismo, per la base ad avviare riforme di struttura che assicurassero intese coi socialisti. L'industrializzazione del mezzogiorno venne promossa in questo passaggio, quindi a fine anni 50, senza però intervenire su un mercato che da solo, in pieno miracolo economico, sembrava poter raggiungere autonomamente la piena occupazione e quindi sostanzialmente conseguire senza grandi interventi pubblici diciamo, allo sviluppo. De Piano aveva infatti costi politici che una DC divisa sull'allargamento a sinistra difficilmente poteva assumere. Nel 1959, l'ascesa di Moro inaugurò una gestione meno autocratica del partito. Il statista pugliese intendeva ampliare l'area di maggioranza, cioè il centrismo, come mediazione, prima fra i cattolici, poi fra DC e i riformisti, attorno a un comune progetto di sviluppo. Non a caso, prima del congresso di fine anno, che loro attificò poi come segretario, promosse un incontro alla Camilluccia, centro studi intitolato Cile De Gasperi, con politici sindacalisti ed economisti cattolici. La discussione intendeva approfondire una proposta politica costruita su un'idea di sviluppo. Partì da una relazione di Saraceno che invitava la DC a riscoprire la sua identità culturale, al tempo stesso interclassista e nazionale, rinnovandosi così con un progetto storico che ne compisse l'originale avocazione, cioè la realizzazione del risorgimento, e quindi dell'unificazione nazionale, attraverso l'unificazione economica del paese. Più nel dettaglio, in questa sede, Saraceno ribadì la pianificazione democratica del codice, così come l'ho illustrata all'inizio dell'intervento. Il piano, cioè, assumeva un ruolo politico e sociale, sintetico. Assicurava concertazione, perché gerarchizzava valori e istanze aspettative della società civile, traducendo poi tali sollecitazioni in obiettivi di sviluppo che definissero una coerente politica economica, secondariamente garantiva coesione alla DC, ampliando l'area riformista verso un socialismo che, dopo la crisi ungherese del 1956, stava rivedendo riferimenti culturali e dottrina marxista. La socialdemocrazia, cioè, dipendeva per Saraceno o per Moro da un progetto storico che abbracciasse l'intero paese come maturazione civile di masse popolari ancora ai margini della nazione. Tale progetto incontrò però resistenze già in sede congressuale, alla fine dell'anno, alla fine del 1959, con una segreteria morotea ratificata da una maggioranza piuttosto composita, quindi una maggioranza, diciamo, prudente sull'allargamento sinistra, quindi piuttosto antifanfagnare. I successivi passaggi sono abbastanza noti, li riprendo rapidamente, in parentesi del governo Tambroni con l'MSI, le prime giunte comunali di centro-sinistra, a Milano-Venezia, governo delle convergenze democratiche, guidato da Fanfani, terzo, guidato dallo statista Retino, che sostiene iniziative di politiche meridionaliste senza però impegnarsi su una pianificazione che inserisse lo sviluppo nella politica economica ordinaria, cioè nell'attività economica ordinaria. Una certa discussione culturale venne comunque incoraggiata, prima di tutto dai lavori della Commissione Papi, incaricata nel 1960-61, di aggiornare lo schema Vanoni nella nuova quadro del mercato comune e della crescita degli anni precedenti. Secondariamente una certa discussione venne incoraggiata dall'apertura dei socialisti verso una modernizzazione guidata dal piano, dalla distensione bipolare, ovviamente, in un contesto più internazionale, e infine, non da ultimo, dal Magistero Giovanneo, quindi siamo all'inizio degli anni Sessanta, soprattutto dopo la pubblicazione della notissima incipica Mater et Magistre. In questo quadro, quindi all'inizio degli anni Sessanta, il primo convegno di studi della DC, organizzato da Moro a San Pellegrino, nel 1961, favorì la convergenza del partito sul progetto storico che veniva incardinato su uno stato operatore di sviluppo pianificato. L'intervento di Saraceno, in questa sede, in questo convegno, parafrasò quanto è esposta la Camillucia, due anni prima, che a sua volta parafrasò la buona parte del codice di Camalduri, diventando poi traccia del discorso con cui Moro sensibilizzò il partito cattolico all'ottavo congresso nazionale, svolto nel gennaio del 1962, sull'esigenza, questa sensibilizzazione, di dilatare i compiti dello Stato per assorbire gli squilibri esistenti nella vita italiana, e quindi squilibri territoriali e sociali. L'apertura verso sinistra sembrava così all'inizio appunto degli anni 60 e del 62, mediata da una pianificazione democratica, come espresso nella famosa nota la Malfa, che avviò l'esperienza della Commissione Nazionale per la Programmazione Economica guidata da Saraceno, che doveva appunto stendere con le parti sociali un programma. Siamo nel quarto governo Fanfani, il primo governo appoggiato anche soltanto esternamente dai socialisti. E' in questo contesto che quello storico progetto che il Codice di Camaldero aveva bozzato senza un preciso interlocutore politico, riconciliando chiese e nazione attraverso una dottrina aderente al paese, sembrava assunto dalla democrazia cristiana per la prima volta nel suo complesso. Lo esplicitò lo stesso Moro nel novembre del 1962 durante il Consiglio Nazionale del Partito. In questa occasione il segretario parlò di una programmazione democratica che doveva garantire uno sviluppo bilanciato ed armonico. Un simile indirizzo veniva intrecciato col documento di Camaldoli quando affermava che appariva, e qui cito, caratterizzante e fondamentale della nostra ideologia, della nostra politica economica-sociale, così come erano i motivi ispiratori della nostra ideologia, come del resto noi stessi auspicammo fin dall'ormai lontano ma sempre presente codice di Camaldoli. Il riferimento in questa sede univa idealmente le idee ricostruttive della democrazia cristiana con l'attuale centrosimistra. Intendeva cioè presentare la pianificazione come adempimento di un ampio programma riformista che aveva radici più profonde dello stesso partito, prospettive ideali che erano state moderate da De Gasperi nel secondo dopoguerra per consolidare istituzioni repubblicane ed economia. In tal senso la citazione del codice come progetto storico che aveva aggiornato un patrimonio comune o patrimonio riformista evitava almeno nelle intenzioni di Moro cesure fra stagioni politiche che potevano aprire fratture interne al partito. Questo disegno venne però come è noto punito all'elezione del 1963 quando DC e Socialistic perseo entrambi i voti scoprendo così la fragilità di una mediazione morotea interna al partito più politica che costruzione. Dopo la parentesi dell'esecutivo guidato da Leone il primo governo di centrosinistra organico guidato invece questa volta da Moro venne costruito alla fine del 1963 moderando il precedente programma riformista mentre esplodevano tensioni fra correnti l'adesione a progetto Moroteo venne sostanzialmente meno mostrando quanto ogni riferimento al codice fosse una suggestione forzata nel presente più che un'eredità realmente fino in fondo condivisa all'interno del partito. Nel 1964 con l'inversione del ciclo e le necessarie cipro economico e le necessarie misure congiunturali ogni proposta in grado di coniugare nazione cioè riduzione degli squilibri e dei divari territoriali e assedi sociali più democratici attraverso una sintesi politica cioè il piano che trovasse nel codice di Camandoli diciamo dei riferimenti ideali venne sostanzialmente accantonata quindi siamo proprio all'inizio della stagione di centrosinistra. Pianificazione sostanzialmente si spense coi piani Giuditti e Pierancini presentati nel 64-66 trovando poi ben poco spazio anche al secondo convegno di San Pellegrino mentre lo stesso mondo cattolico rimase in questo frangente abbastanza freddo verso l'esperienza camandolese anche perché l'associazionismo a metà anni 60 si stava emancipando da movimentismo piano e collateralismo verso un impegno più religioso meno politico più religioso Golzio che era ancora segretario anche subscente del movimento laureati alla fine del 64 propose un aggiornamento del testo soprattutto quelle parti su stato lavoro sindacati ma anche l'ordinamento internazionale che ormai apparivano consumate dalla storia significativamente diciamo nella suo progetto egli eluse una pianificazione che stava naufragando con il centro sinistra evidenti erano infatti timori a metà anni 60 di compromettere l'azione cattolica dentro questioni che laceravano di ci e politica anche per questo il consiglio nazionale dell'azione cattolica ovviamente rispetto a un'onerosa progettazione culturale preferì impegnare il laicato in una riflessione sulla costituzione gli anni 70 accumularono tensioni che divaricarono politica e società civile consumando il ruolo nazionale svolto dall'ADC come partito italiano cioè la mediazione fra laici e cattolici contestazione giovanile e nuove esperienze da postolato che interpretavano il concilio autunno caldo e autonomismo socialisteggiante delle acri erosioni di spazi e pastorale parrocchiale a inizio negli anni 70 la secolarizzazione visibile nel referendum sul divorzio scompose quell'area cattolica su cui era stata edificata l'egemonia dell'ADC soprattutto in assenza di un forte progetto culturale la solidarietà nazionale nascose in parte questi problemi esposi però dopo la morte di Moro e la fine del compromesso la crisi morale dell'ADC dopo decenni di governo che ne avevano incancrenito l'egemonia in strutture di potere sempre più opache dall'amministrazione all'impresa pubblica produsse uno smarrimento che si ripercosse anche sulle istituzioni repubblicane la seconda metà del decennio questa crisi spinse verso una riscoperta della costituente in questo decennio che il dibattito sulla costituzione si rianima suscitando infatti un ampio dibattito che in area marxista da una prospettiva gramsciana di struttura insisteva sulla ricostruzione repubblicana come rinnovamento disatteso l'attuale deriva insomma era interpretata come lineare successione fra Italia liberale regime e repubblica con un ADC che dietro un interventismo quindi a interventi sociali utili per gestire il consenso aveva in realtà sostenuto una ripresa capitalista per consolidare i vecchi assetti del paese questa interpretazione non venne assunta soltanto in area marxista da storici marxisti ma anche da alcuni di quei cattolici che avevano sofferto sconfitta del dossettismo e ritiro di dossetti negli anni 50 la loro ricostruzione penso ad esempio a quella offerta da Bacet Bozzo nella sua famosa storia sulla DC apparsa proprio a metà del decennio appiattiva la complessa articolazione che aveva animato il mondo cattolico prima e dopo la costituente in una sorta di dicotomia fra conservatori e progressisti quindi conservatori popolari e progressisti dossettiani qualunque esperienza culturale alternativa alle correnti veniva così cancellata il codice riappariva nel dibattito per la prima volta ma la sua proposta veniva svilita come progettazione come cultura che ricalcava le linee economico-sociali dai primi documenti democristiani come appunto le idee ricostruttive a questa prospettiva rispose alla fine del decennio una storiografia cattolica che con autori come Scopola Traignello valorizzando spiritualità e cultura studiava genesi e formulazione del progetto democristiano come incontro fra chiesa e democrazia avvenuto tra fascismo e resistenza rilevanti in tal senso furono le indagini di giovani storici come Moro Renato ovviamente Pombeni Giovagnoli Suffucini e Movimento Laureale studi che ricostruivano il retroterra della democrazia cristiana comprese esperienze come il codice questo veniva in questi lavori con qualche forzatura assimilato nella cultura generale degli ambienti intellettuali ma al tempo stesso separato per la prima volta con decisione dall'esperienza del dossettismo per questi storici il codice esprimeva ideali proposte di un'intera generazione di fucini e laureati perché comprese poco la sua proposta economica limitando almeno a mio giudizio a interventismo e ridistribuzione proprio per questo in questi primi lavori sul codice che riscoprono il codice di Camaldoli il documento si perdeva in una sorta di vaga influenza tra nascita della democrazia cristiana e costituente in ogni caso questi primi studi inaugurarono una terza stagione del codice e qui mi avvio la conclusione dopo la scarsa circolazione del dopoguerra e la breve resurrezione che aveva avuto con il progetto Moloteo la coscienza che una certa modernizzazione del paese quella guidata da centrismo e centro-sinistra aveva esaurito prospettive politiche spinse molti soprattutto giovani verso Camaldoli in articoli convegni come ad esempio nell'intervento di Maria Luisa Valier moglie di Paronetto in un incontro del 1979 su Dicee Costituente il codice iniziò a essere interpretato come patrimonio di valori condiviso da un'intera generazione politica questo spirito di Camaldoli in un certo senso recuperava solo in parte della storiografia Coe ovviamente perché intendeva mostrare la via per una nuova sintesi fra magistero cultura e politica la discussione del codice divenne veemente quindi negli anni 80 mescolando attualità e storiografia con intellettuali e mondo giovanile che premevano per un rinnovamento del partito cattolico si moltiplicarono così iniziative di studi riflessioni incontri sul documento anche a Camaldoli alcuni tenuti anche qui negli anni 80 e 90 un movimento che nel suo complesso la dirigenza dell'ADC cercò di assecondare per ricucire lo strappo tra il partito e la sua base elettorale ad esempio un incontro fu organizzato nell'82 dal centro studi Vanoni con i gruppi parlamentari democristiani numerosi furono poi le iniziative editoriali comprese la ripubblicazione del testo nel 1983 dopo quasi 40 anni si sperava così di riavviare il dialogo fra partito e nazione rinnovando in un certo senso quell'economia mista in cui erano cresciute le speranze di rinnovamento di un'intera generazione di cattolici è in questo momento quindi che il codice come è già stato ovviamente affermato venne mitizzato cioè in quella stagione in cui si consumava la crisi dell'intervento statale con scioglimento dopo la privatizzazione dei libri la crisi del comunismo la crisi soprattutto dei grandi partiti di massa antifascisti in pratica si consumava la scomparsa di tutto quel mondo in cui l'ADC aveva costruito la sua identità negli anni 40 e oltre quello del codice il cui concludo rimase così un riferimento tutto sommato astratto e privo di progettualità perché accompagnò sostanzialmente più che frenare la scomparsa del partito grazie anche all'ultimo relatore adesso chiamiamo Torresi che lui è responsabile e guiderà da adesso la no 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 tocca ancora a te moderare tocca ancora a te moderare io volevo solo dire questo adesso iniziamo il dibattito andremo fino alle 12.50 poi c'è il pranzo però come avete visto dal programma per favorire il dibattito abbiamo chiesto a quattro studiosi di fare da discussant in ciascuna delle tre sessioni e vorrei presentarveli sono Giovanni Mario Ceci che è professore associato al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma 3 e è membro del Comitato di Mondo Contemporaneo è studioso di fascismo di storia politica dell'Italia Repubblicana di storia della democrazia cristiana del terrorismo e degli intellettuali durante la guerra fredda ha pubblicato volumi su Renzo De Felice su Moro il PC sul terrorismo italiano sulla CIA e il terrorismo italiano dalla strage di Piazza Fontana agli anni Ottanta poi abbiamo Raffaella Perin che è professoressa associata all'istoria del cristianesco all'Università Cattolica del Sacro Cuore specialista della Chiesa contemporanea ha studiato antisemitismo antiprotestantesimo antimodernismo cattolico nella prima metà del Novecento e poi soprattutto negli ultimi anni si è dedicato a particolare ai media la politica vaticana pubblicando il volume La Radio del Papa Propaganda e Diplomazia nella Seconda Guerra Mondiale edito da Mulino è imminente una traduzione in inglese un volume di grande interesse di grande fascino fa parte dell'equip del progetto di ricerca Global Bat Rebuilding the World Society and Human Identity The Global Perspective of Vatican Archives poi Tommaso Bari che insegna storia contemporanea presso l'Università di Palermo e si è occupato anche lui di fascismo di storia sociale della guerra e partiti politici dell'Italia Repubblicana e il suo ultimo lavoro è Andreotti una biografia politica dall'associazionismo cattolico al potere democristiano pubblicato dal Mulino nel 2020 infine Guido Pampini ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche della Sapienza ha svolto attività di ricerca e di insegnamento presso l'Università della Tush di Macerata la LUIS di Roma di Perugia di Champs-Po e all'Alma Mater Studiorum di Bologna è stato post-doctor a FEDO presso la Yale University visiting scholar presso la L'OIPE di University e Marie Curifello presso il centro di scuola dell'Università Saint-Spo di Parigi i suoi interessi di ricerca riguardano la storia dell'Europa contemporanea dell'Italia repubblicana la violenza politica e terrorismi la storia degli intellettuali la storia sociale e le guerre civili del Novecento quindi a loro se lo desiderano se vogliono si sono stati ispirati dalle tante considerazioni che abbiamo condiviso vogliono prendere la parola per loro abbiamo pensato un intervento di 4-5 minuti per tutti gli altri di 2-3 minuti in modo puntuale su ciascuna degli argomenti e dei temi della sessione grazie e buon dibattito buongiorno a tutti io sono Tommaso Baris diciamo il mio ovviamente non è un intervento strutturato ma come dire ho semplicemente alcune considerazioni che nascono dalle interessanti relazioni ascoltate direi questo mi sembra che noi stiamo ragionando su due ordini in questione il codice di Camaldoli che abbiamo ribadito oggi non è un codice non è stato scritto nella settimana e mancavano tra virgolette molti degli autori quindi da un lato come dire cosa quel documento che è scritto in questo modo tra il 43 e il 45 ci dice come occasione di riflessione di alcuni gruppi intellettuali precisi ma anche molto delimitati numericamente importanti a cui viene affidato la speranza oltre che il compito di formarsi in vista di una trasformazione però come dire utilizzare quel documento in realtà per ritornare a un momento che era aperto dinamico in evoluzione in cui esiti non erano precostituiti mi sembra che la relazione che abbiamo sentito di Guasco vada molto in questa direzione cioè a non rileggere a posteriori in maniera eccessivamente schematica e rigida quel ruolo utilizzare invece quel documento per capire l'ampia articolata discussione dentro il mondo cattolico in cui lo dico qui in maniera esplicita come dire l'esito democratico è stato un percorso e non una scelta come dire precostituita noi diciamo questo mi ha molto sorpreso le relazioni sono state molto interessanti però rimandano appunto a un'articolazione del rapporto tra movimenti intellettuali gerarchie cattoliche spinte ma anche come dire relazione dialettica e probabilmente l'esito democratico è progetto di alcuni ma non di tutti e sappiamo come anche dentro stesso mondo vaticano ci fosse una pluralità di visione sappiamo che a lungo anche addirittura fino agli anni 50 come dire si è guardato a esperienze come la Spagna e il Porto Carlo che democratiche non erano e in realtà anche sull'unità dei cattolici in politica c'era un'articolazione di posizioni ecco che poi noi vedremo continuare anche nel guerra quindi da un lato un problema cioè rileggere dentro quella specifica d'imperie ricordare secondo me la centralità che anche questo è stato fatto l'evoluzione bellica l'evoluzione politica il crollo del fascismo la definizione diciamo di terra di mezzo tra il fascismo che non c'è più o sappiamo che sta in realtà per morire e la democrazia che non c'è ancora però in questi intesi come elementi di ricerca mi sembra particolarmente pregnante l'altro elemento che invece emerge è invece quello che è stato qui chiamato il mito la funzione mitica del codice di Camaldoli cioè in realtà come dire una risorsa simbolica che quindi ci pone dei problemi diversi perché i miti funzionano in politica hanno un ruolo o riattivano energie possono essere riproposti a distanza di decenni come dire però questo è un altro tipo di questione diciamo spinge tutti noi ciascuno con le proprie specifiche competenze a come dire porre delle questioni in un'altra visione quindi l'uso simbolico e mitico del richiamo al codice l'ultima relazione è diciamo un tentativo di lettura in questo senso cioè come in differenti fasi politiche che hanno differenti contesti storici si può utilizzare come termine di proposta politica in realtà presente cioè relativa a quello specifico momento sono stati fatti alcuni esempi il 62 ma anche la crisi degli anni 80 quindi ritornare a camaldoli per ripensare una propria funzione allora io dico che secondo me mi sembra che queste due questioni siano questioni importanti ci pongono delle questioni metodologiche la diciamo sollecitazione generale che faccio rispetto a questo tema è che forse quello diciamo che è rimasto molto sullo sfondo è il contesto al di fuori nel mondo cattolico che pure ha pesato cioè è chiaro che il tema della programmazione è chiaro che ha o del ruolo regolatore dello Stato ha dei riferimenti che sono quelli precedenti degli anni 30 che poi vengono apuiti con la crisi della seconda guerra mondiale di un certo tipo la programmazione quando ne parliamo negli anni 60 invece è dentro diciamo sul successo di quell'operazione di ricostruzione della democrazia le cui caratteristiche in realtà nel 43 non possono per forza di cosa essere conosciute e ovviamente anche richiamo al codice nella tempere culturale degli anni 80 avviene un altro contesto perché lì si stanno affermando nuovi paradigmi in cui alcuni di quegli assunti intervento dello Stato rapporto unificazione eccetera sono profondamente messi in discussioni ecco allora credo che in questo quadro è stato assolutamente di alto valore che ci ha riportato a ragionare su questa questione riuscire a fare quest'ulteriore passaggio forse rispetto a quello che si muoveva intorno può essere ulteriormente attaccato grazie salve buongiorno sono Giovanni Ceci tanto grazie anche da partire per l'invito graditissimo una brevissima premessa del mio brevissimo intervento le suggestioni ringrazio perché sono state veramente tante io semplicemente reagirò cercando di trovare un filo rosso mi sembra tra ieri e oggi e lo farò questa è la breve premessa come anticipava Tiziano in presentarmi in presentarci da storico politico di Italia Repubblicana quindi non è esperto di queste vicende e quindi da una prospettiva diversa da uno sguardo diverso che pongo delle domande sollecitate dai vostri interventi il filo rosso mi pare uno che è già nel titolo del commegno in generale e della relazione di Persico poco fa ed è il tema del mito secondo me sarebbe interessante forse lo farò diciamo negli altri interventi capire le origini e le ragioni del mito ancora oggi forse perché stiamo a discutere oggi ancora del codice di Amanda e proprio mentre ci torniamo che sono ragioni certamente storiografiche ma che forse vanno anche al di là della storiografia e affondano nella cultura e nel dipatrio politico negli ultimi 80 anni e forse anche di oggi due nodi che pongo attorno a questa meditazione che mi è sembrato emerge dalle varie relazioni e a questo mito del codice mi sembra che il tassello cruciale o uno dei tasselli cruciali su cui il codice e il suo mito si è fondato sia quello dell'uso varie categorie della storiografia alcune remesse anche oggi della discontinuità dell'originalità della svolta ieri si è parlato addirittura di rivoluzione che il codice avrebbe segnato non c'è dubbio che il codice ha determinato una svolta una tappa rilevante con diversi elementi decisivi di originalità all'interno della cultura cattolica cioè se si guarda il codice è come una tappa della storia della cultura cattolica anche se di una parte della cultura cattolica l'avete detto voi l'ha ripetuto adesso Tommaso Pais e non c'è dubbio che questa originalità derivi ed è stato giustamente enfatizzato più volte è un elemento determinante con l'esperienza del totale del fascista tutto questo però questa è il punto della domanda che vorrei se usciamo da questa ottica interna diciamo alla storia del cattolicesimo italiano e proviamo a fare un bilancio più complessivo io pongo davvero due problemi da non esperto primo quanto è rilevante quanto è davvero innovativo il codice se lo si contestualizza e se lo si mette a confronto non solo con la cultura cattolica del tempo e non solo con la cultura italiana del tempo è il secondo aspetto abbiamo enfatizzato è stato enfatizzato in generale il carattere appunto di originalità di superamento sono tutte cose bellissime naturalmente però diciamo sul piatto forse rimane un'altra questione quella delle continuità probabilmente lo chiedo a voi cioè a mio avviso rileggendo il codice però ripreparandomi diciamo per fare di scassa alcuni problemi probabilmente rimangono aperti e rimangono aperti con forza mi limito proprio ad encarnere quelli che reputano i più essenziali che sono qualità di loro il tema del rapporto e di con per ritornare al tema del rapporto del confronto con la modernità il tema del confronto lo accennava adesso Tommaso il tema del confronto Baris con la democrazia il tema più in generale del confronto con i valori libero-democratici è stato giustamente ricordato il tema della persona ma su questo tema e sul giusto superamento riguardava la Presidente Cartaglia Salatina del costituzionismo ottocentesco ma il tema del rapporto idea società Stato mi sembra che ponga ancora dei problemi come dire in chiave storica così come è stato formulato nel codice nel rapporto diciamo in termini con una categoria ancora presente nel codice di organicismo ad esempio non ultimo anche qui lo ricordavo dal Presidente Cartaglia il tema della laicità sempre in questo rapporto con la cultura come dire costituzionale liberale ecco secondo e concludo tema legato al mito il tema lo accennava Tommaso Bani se lo accennava giustamente Persico oggi è nel libro cioè il tema anche qui lo presenta Cartaglia prima il tema del peso del codice della rilevanza effettiva del codice al di là del fatto che il testo è non codificato è scritto da persone che meno la presenti cioè il tema è cosa è scritto nel codice per quanto non codificato e cosa effettivamente rimane del codice lancio una battuta prendetela come una provocazione l'obiettivo di discuss è anche provocare cosa sarebbe successo del codice ne staremmo parlando qui come si dice nel depian nel convegno come uno dei documenti più significativi del codice italiano se l'ADC non avesse avuto questo ruolo dominante della storia italiana diciamo nel primo quarantena del pubblicano quanto hanno pesato più che il codice le declinazioni politiche del codice e le individualità lo accennava anche qui Tommaso Baris abbiamo citato lo faceva appunto Presidente Cartabia Fanfani Moro Tossetti Andreotti Tapia ecco se parliamo di personalità politiche che hanno declinato in modo politico il codice e l'hanno declinato in modo differente tra loro peraltro quindi il tema dell'impatto diciamo e delle declinazioni del codice e quindi della sua reale influenza è un tema che è perso ma posto secondo me molto bene ma che va ancora problematizzato e questa è la conclusione il mito ci ha insegnato uno dei maestri il maestro dell'antropologia cioè Levi Strosso sul mito è diciamo attribuire proiezioni incanalare proiezioni aspirazioni desideri ecco mi sembra che il codice sia un esempio perfetto di mito in questo senso cioè e sono state probabilmente anche ragione del suo carattere non codificato delle pagine bianche in cui una classe dirigente ha rinvenuto in passaggi cruciali della sua storia diciamo delle ritrovato e diciamo pensato di legittimare scelte cruciali passaggi cruciali strategie cruciali veniva ricordato il centrosinistra il tema della programmazione ma forse la stessa unità politica dei cattolici esigeva dei documenti unificanti che al di là della pluralità delle posizioni o ancora nel finire la propria storia negli anni ottanta il tema della identità democristiana ormai sempre più affievolita come giustamente ricordava a Persico aveva bisogno di miti fondativi attorno a cui ricostruire un'identità e un'unità a sua volta quindi diciamo vi chiederei io che insomma prendo il dibattito anche questo sul tema tra mito e realtà ecco grazie buongiorno anch'io mi associo sono qui da bambini anch'io mi associo e ringrazio a Menti per l'invito e anch'io ammetto di non essere un esperto è il mio punto di osservazione che viene da fuori allora il primo elemento di riflessione che mi hanno che mi ha suscitato questa che hanno suscitato queste prime due giornate di studio quale passato avevano in testa i partecipanti al convegno di Camaldoli perché mi pongo questa domanda perché riandando a ragionare sulla storiografia che si è occupato del codice di Camaldoli anche lì dove questa riflessione non è stata esplicita emergeva penso ad autori come Guido Verucci o lo stesso Petro Scoppola emergeva molto esplicitamente una preoccupazione dei partecipanti alle giornate di Camaldoli non soltanto riguardo al fascismo che non veniva percepito in realtà come un passato remoto ma come un presente su cui tornerò il passato a cui si faceva riferimento come preoccupazione in particolar modo alla definizione del rapporto tra economia e società era l'Italia prefascista dove la preoccupazione è un ritorno a quell'Italia liberale prefascista che sembrava nella preoccupazione di alcuni partecipanti di aver eliminato qualsiasi livello cioè di corpo intermedio tra società economia e Stato che invece i partecipanti alle giornate di Camaldoli in qualche modo riproponevano in una riformulazione questa volta diciamo in stradata verso una reinterpretazione democratica da questo punto di vista il fascismo lascia una verità molto ambigua perché si apre si dovrebbe aprire qui una parentesi il fascismo un po' il grande mi sembra in questi due giorni un po' il grande elefante nella stanza cioè è presente come l'ascito estremamente ambivalente e ambiguo certo che i partecipanti alle giornate di Camaldoli si pongono il problema di come riformulare il rapporto tra uomo e Stato con l'eredità lasciata dal totalitarismo un'eredità verticale quasi a trasmettere un punto di vertigine ma il fascismo è anche grossomodo il regime che nel corso dei suoi vent'anni ha riformulato attraverso la costruzione di una società dove è pieno di corpi intermedi il rapporto tra uomo e società e d'altronde la storiografia che si è occupata della transizione dal fascismo alla democrazia che in realtà era una transizione duplice c'era una transizione della monarchia alla democrazia parlava esplicitamente di cosa? del problema della successione cristiana al fascismo allora lì c'è un enigma in qualche modo un enigma che secondo me ancora non è stato sciolto definitivamente cioè della tempistica perché è chiaro che il rapporto e il ripensamento della democrazia all'interno della cultura cattolica non è così repentino non lo possiamo secondo me declinare noi in pochi anni tra il 42 e il 45 dove gli eventi bellici il crollo del fascismo hanno accelerato questo tipo di impressione evidentemente c'è un fiume cazzico che attraversa la storia del cattolicesimo italiano e che diciamo riaffiora poi in maniera prepotente in quel triennio così drammatico certo è che bisogna riflettere poi sugli strumenti con cui dobbiamo interrogare quelle culture cattoliche rispetto al problema della successione era un po' quello che accennava Tommaso Baris quel processo e quello sbocco verso la democrazia non è così scontato non lo sarà così scontato anche nel momento in cui la democrazia verrà effettivamente costruita l'ultima riflessione invece viene da una io ho trovato molto interessante il giudizio non parlano mai esplicitamente del codice di Camaldoli anche se credo fosse a conoscenza di questi storici mi riferisco a Carlo Arturo Iemolo e Federico Schiappot che invece nell'immediato secondo dopoguerra danno un giudizio che io ho riletto recentemente abbastanza sorprendente cioè dicono il secondo dopoguerra è il momento di più grande intesa tra cattolice e sinistre e soprattutto Iemolo scrive non abbiamo quella diciamo quella spitta anticlericale che invece si risconta in altri momenti della storia dell'Italia in Italia dato questo giudizio molto interessante perché un po' contrasta col giudizio che invece si è sviluppato nei 50 nei 60 anni dopo di riflessione storiografica cioè sappiamo quanto è stato controverso drammatico e complicato il lungo dopoguerra il lungo dopoguerra italiano invece questi due autori Chabot non scordiamoci che scrive un giudizio estremamente positivo del ruolo della chiesa del mondo cattolico avuto dal crollo del regime fascista alla nascita della repubblica è un giudizio molto tranchant ma molto efficace nel restituire dal suo punto di vista che certo era un punto di vista estremamente diverso da quello della storia cattolica il ruolo avuto dal cattolice in quella fase ora è molto interessante qui c'è un giudizio dato a caldo di un ruolo estremamente positivo avuto grazie anche alla presa di posizione della chiesa e della cultura cattolica nel rapporto tra sinistre e cattolici nella costruzione della democrazia l'ultimo elemento di riflessione che è una riflessione che mi ha suscitato l'intervento del professor Maffeis e sarebbe interessante da un punto di vista storiografico trovare un punto di contatto con la vicenda che lui ci ha raccontato cioè forse un elemento un ingrediente su cui andrebbe anche esplorato dal punto di vista di ricerca il cattolicesimo italiano non vive in un'autoreferenzialità e solitudine è inserito all'interno di una cultura cattolica europea all'interno della quale negli anni 30 e 40 circolano ma molto più di quanto non pensiamo tensioni di tipo teologico che poi forse ci potrebbero aiutare a cogliere quella tensione verso la democrazia non a caso si fa riferimento alla teologia tedesca alla teologia belga il codice di Malin viene diciamo elaborato in un contesto che è quello del belgio fiamminico tra altre cose dove il rapporto tra tensione sociale e costruzione della democrazia è un elemento centrale nella riflessione teologica allora forse questo è un aspetto che l'astrografia potrebbe cogliere di più e che potrebbe approfondire e avrei altre osservazioni ma me le tengo per la sessione domani quella di dopo domani grazie buongiorno a tutte a tutti siamo credo tutti un po' stanchi però mi perdonerete se dico anche io qualche parola intanto ringrazio la relatrice ai relatori ringrazio per l'invito a questo momento molto importante secondo me di riflessione importante perché probabilmente ci dà anche lo stimolo a provare ad andare oltre quello che è già stato scritto ed è già stato detto sul codice sulla sua redazione abbiamo qui naturalmente il dottor Persico che ha scritto un libro su questo e allora io provo a lanciare un intervento un po' tecnico ma che vuole essere insomma volutamente tecnico perché faccio la storica e quindi io ho bisogno di basarmi sui documenti quindi farò qualche citazione di documento per provare a comprendere l'origine di nuovo di questo codice e ovviamente mi rivolgo innanzitutto ai due storici che ci hanno intrattenuto con le loro relazioni ma anche poi così come spunto di riflessione allora voi sapete che da qualche anno abbiamo come studiosi accesso alla documentazione relativa al pontificato di Pio XII che è stata aperta diciamo nel 2020 poi chiusa per la pandemia insomma finalmente abbiamo la possibilità di andare a ricercare le risposte a quelle domande che ci eravamo posti per anni sul pontificato di Pio XII oggi è stato più volte evocato un famoso radiomessaggio famoso radiomessaggio natalizio del 1942 ed è stato detto è stato ridetto e probabilmente è così che è stata diciamo la base per i cattolici italiani per provare a pensare a ripensare la costruzione dell'Italia post bellica e in effetti le cose sono andate così senza altro ma come sappiamo un conto è quello che i papi dicono un conto è quello che viene compreso perché non sempre le due cose coincidono la stessa enciclica a quadragesimo anno aveva avuto due opposte interpretazioni anche questo è un documento importante ai fini del discorso che stiamo facendo da una parte c'era chi l'aveva interpretata come l'endorsement al corporativismo stile fascista dall'altra parte c'era chi invece l'aveva interpretata come una critica al controllo assoluto dello stato fascista quindi insomma dobbiamo sempre andare a vedere le fonti allora torniamo a questo testo del radiomessaggio del 1942 importante per due ragioni per quella che abbiamo già detto e per un altro motivo perché questo testo contiene un passaggio nel quale il papa alluse allo sterminio degli ebrei in corso ve lo ricordo per chi magari non è insomma mezzo questo tipo di discorsi dice il papa questo voto l'umanità lo deve alle centinaia di migliaia di persone le quali senza avere una colpa propria da loro solo per ragione di nazionalità o di stirpe sono destinate alla morte o a un progressivo deperimento ora gli studiosi si sono divisi su questo punto e alcuni hanno pensato questo è il momento in cui il papa finalmente rompe il silenzio e denuncia la Shoah altri invece che dicono mazzo è un passaggio talmente blando non c'è neanche la parola e verde quindi probabilmente non è così allora probabilmente il papa aveva in mente di denunciare lo sternio ma non viene recepito tant'è vero che correggetemi se sbaglio nelle discussioni che avvengono anche tra gli intellettuali cattolici forse questo passaggio è iluso ma correggetemi se mi sbaglio l'altro passaggio invece quello più famoso quello che fa del sale le antene cioè finalmente possiamo pensare alla democrazia anche qui però Gemelli che appunto pensano come Antel che finalmente Piedodicesi finalmente no Gemelli non lo pensava Piedodicesi intende condannare le dittature e promuovere la democrazia allora cosa fa scrive alla segretaria di Stato e Montini gli risponde cioè scrive la segretaria e dice ma il Papa intendeva condannare i totalitarismi e aprire la democrazia Montini risponde esplicitamente nulla di ciò è contenuto né qui né nel capitolo dignità e diritti della persona umana implicitamente è detto che la costituzione dello Stato e la legislazione debbano aver riguardo ai diritti degli enti sociali inferiori e dei singoli nulla si dice intorno alla questione tecnica come ciò debba essere effettuato per esempio per mezzo del Parlamento in altra forma ora a me pare che il chiarimento come dire interpretava in senso riduttivo quelle parole di Pio XII però è anche vero che in realtà poi gli intellettuali cattolici non si danno per vinti perché infatti segue il lavoro dei laureati anche il gruppo della cattolica continuerà a lavorare su questo però insomma ecco bisogna secondo me comprendere che cosa in mente il Pio XII nel Natale del 42 e che cosa invece capiscono gli intellettuali cattolici che insomma sono un gruppo io la chiamo la migliore la meglio gioventù perché è un gruppo minoritario nel senso che il cattolicesimo italiano e la chiesa di Pio XII non corrisponde esattamente a questo gruppo quindi è bene sottolineare questo tentativo che fa questo gruppo di andare oltre anche le parole del puntefice però ecco io starei attenta a non sovrapporre l'idea di Pio XII con quella di questi intellettuali anche perché Pio XII lo sappiamo bene parlerà di democrazia soltanto due anni più tardi nel Natale del 44 peraltro parlando di vera democrazia non di democrazia di sana democrazia quindi portando anche degli elementi riducendo anche un pochino la portata di questo endorsement alla democrazia il Radio Messaggio il 42 viene interpretato nelle maniere più varie i tedeschi pensano ecco finalmente ecco il Papa ci ha abbandonato il Papa si è schierato con gli alleati gli alleati pensano il Papa di nuovo non ha non ha detto nulla è stato confuso è stato superficiale così anche in un diario di un gesuita Vincent McCormick che è stato gesuita americana è stato anche rettore della Gregoriana anche McCormick dice ma insomma questo discorso era molto confuso non si è capito bene che cosa volesse dire quindi ecco attenzione anche qui alle interpretazioni tutto questo per dire intanto che questo convegno questa celebrazione ecco del codice potrebbe veramente farci tornare ai documenti andiamo a vedere negli archivi se c'è qualche traccia di come questo documento è stato redatto chi l'ha scritto vedo già Alberto Guasco che scuade la testa perché è vero finora non è stata trovata una redazione è stata trovata una sola redazione di questo testo che peraltro è una redazione finale quindi non sappiamo davvero come è stato costruito però insomma intrecciando carte e archivi forse qualcosa di più potremmo dire perché secondo me quello che è importante è al di là appunto della citazione specifica è comprendere che siamo in un momento storico in cui la chiesa è un certo tipo di chiesa cioè non retro proiettiamo come è stato detto prima acquisizioni successive a un periodo in cui davvero ancora insomma i modelli sono la Spagna di Franco e il Portogallo di Sassar quindi insomma io voglio essere anche un po' provocatrice in questo senso non adagiamoci appunto a quello che di bello poi è stato costruito ma proviamo ad andare a vedere anche proprio le difficoltà per costruire questo aggancio alla democrazia e avrei altre cose ma magari visto che c'è un'altra sessione il pomeriggio avrò modo di intervenire comunque grazie per queste splendide relazioni e grazie per la vostra pazienza applausi applausi buongiorno buongiorno Nicola Carrozza allora due considerazioni e una domanda delle proprie le due considerazioni sono molto un po' più spontanee anche rispetto agli interventi più illustri dei giovani si trovano a Camaldoli e dei giovani che apparentemente non hanno un partito dietro non hanno denaro e non sanno neanche che cosa le aspetta cioè non sanno non è che stanno pensando alla costituzione di qualcosa ci sono le bombe a Roma c'è la guerra in corso quindi diciamo la cosa bella apparentemente insomma anche dai vostri interventi e da quello che ho ascoltato è che dei giovani che non fanno calcoli su quello che sta succedendo in qualche modo possono cambiare il mondo cioè è una lezione all'oggi alla contemporaneità anche ad oggi rispetto anche all'intervento della professoressa e di Guasco un tema che mi sono stati citati i tanti documenti che i cattolici italiani in quella fase preparano Milano ma lo stesso la parola ai democratici cristiani demofili insomma tutti i vari documenti ecco una novità è forse il salto di qualità del metodo cioè nel senso quest'idea delle commissioni del relatore e poi di un gruppo ristretto che scrive in questo metodo possiamo vedere qualcosa rispetto poi alla costituente e poi l'ultima domanda è nel codice non si parla in effetti di non c'è un aspetto ancora costituente no? si parla ancora di un cambiamento ma è possibile e i cattolici forse fino a quel momento il tema istituzionale non se ne erano posto era visabile in quel momento durante nel 43 del codice l'idea di un cambio e quindi di un processo che porti ad una repubblica grazie a questo posso forse cercare di rispondere io io direi di sì che si parla già di costituente scusate io ho letto in quelle poche parole che ho detto all'inizio che uno dei contenuti è l'adozione di una costituzione e di una costituzione rigida questo c'è scritto nel codice non è che c'è scritto nelle cose che poi verranno scritte nel 46 ma vorrei aggiungere anche un'altra cosa che non ho detto stamani che non si può dire tutto è documentato ormai in modo assolutamente pacifico che Paronetto ha collaborato con De Gasperi dialetticamente negli anni 42 43 a Roma anche nella elaborazione dei primi grandi documenti clandestini ancora della DC ibi compreso un famoso documento che comincia dicendo che il fascismo ha distrutto i diritti e che la prima cosa che bisognerà fare sarà che il popolo attraverso un'assemblea fissi nuovi principi costituzionali cioè l'idea della costituente non si chiamava assemblea costituente voglio dire poi verrà chiamata assemblea costituente nel giugno 40 dal giugno 44 con la prima costituzione provvisoria cioè non è che l'assemblea costituente non esisteva la prospettiva e che quindi si parlava vagamente no si parlava certo in termini ancora estremamente difficili io devo dire scusate io ricordo sempre cose di Giorgio Lapiera perché ho dovuto ripassare molte letture di Giorgio Lapiera negli ultimi anni cioè la mia è perseguitato si può dire è individuato in modo esplicito dalla polizia fascista a Firenze perché fanno chiudere prima principi poi lo attaccano per una settimana cattolica fatta all'inizio del 43 poi dopo la caduta che anche questo poi va tenuto presente dopo il 25 luglio e dopo l'8 settembre Giorgio Lapiera viene chiamato o meglio dopo il 25 luglio Lapiera viene chiamato mentre Mussolini è ancora arrestato viene chiamato dal prefetto di Firenze per scrivere due articoli che scrive due editoriali sulla nazione del pop sulla nazione agosto 43 proviamo a renderci conto cosa vuol dire agosto 43 la guerra continua accanto ai nazisti però non c'è più il regime fascista e lui è chiamato a fare un discorso di pacificazione questo discorso questo articolo è intitolato responsabilità del pensiero tra i son de Klerk insomma qui ci sono colpe degli intellettuali ci sono anche colpe dei politici del sistema politico ma ci sono colpe anche degli intellettuali e lui dice che responsabilità per tutti noi lo dice anche a carico suo lui aveva fatto principi aveva fatto tante altre cose che responsabilità perché non abbiamo retto la degenerazione concettuale che sta alla base che è stata alla base del fascismo e termina con una famosa affermazione famosissima affermazione che lui ripensa all'affermazione di Gesù Cristo che dice guai a voi maestri del diritto guai a voi guai a voi guai a voi maestri del diritto guai a voi giuristi e scritti cioè lui si rende addirittura cita Gesù Cristo per dire che ciò che è stato fatto dagli intellettuali italiani fino ad allora era assolutamente pessimo c'era una responsabilità ecco allora no io non vorrei che fosse sminuito troppo il coraggio di questi giovani 30 persone meno metà della sala presente che si mettono lì e scrivono come deve essere rifatta la democrazia perché lo scrivono perché dicono che ci vogliono le libertà che ci vuole una costituzione che ci vuole una giustizia imparziale che ci vuole una partecipazione che ci vuole un'eguaglianza ecco allora dopodiché i limiti ovviamente ci sono e credo nelle cose umane ci sono i limiti però in quel contesto io credo si debba continuare a riconoscere un valore grande a quei 30 giovanotti appunto dai 40 anni erano i vecchi i quarantenni hai 25 anni eh sto qui applausi allora io rispondo solo a qualcuna delle sollecitazioni pronunciando probabilmente frasi sconnesse perché eh davvero sono tante allora io mi concentrerei sulla questione che è emersa della democrazia è stata rievocata da alcuni eh da alcuni indiscassant lascio stare il mito perché poi la gente è affamata quindi non parlerò mezz'ora allora secondo me per un po' la lontana la parabola della democrazia assomiglia un po' al funzionamento del motore a quattro tempi nell'arco di 2500 anni di storia a questa parte lo scoppio quindi la Grecia classica poi la contrazione 15 secoli 16 secoli in cui non se ne parla più l'espansione da fine 700 ma soprattutto io parlerei di espansione novecentesca e poi la contrazione gli ultimi 30 anni su cui un sorvolo a pie pari e ciò di cui noi stiamo parlando si colloca si colloca ovviamente nella fase di espansione a cavallo di una guerra che sta finendo e di una seconda metà del secolo che sta incominciando ma è chiaro che questo appartiene a una storia e anche a una storia ecclesiale nella storia della Chiesa la democrazia non è un documento è anche la storia di un'idea la democrazia o quasi democrazia di cui parliamo non è quella dei tempi di Pio VII all'epoca delle repubbliche democratiche di fine settecento non è neanche più l'idea di Leone XIII e di Tognolo sulla democrazia cristiana è un passaggio che si sta consumando che alcuni hanno le orecchie più attenti a cogliere perché Dossetti ben prima di quando Pio XII la espliciti a livello documentario nel 44 ha le orecchie attenti a cogliere quei segnali segnali che stanno tutti in quello spazio di comprensione in cui ciascuno ha la libertà di agire a partire dalle proprie convinzioni chiaramente io non so che cosa volesse dire esplicitamente Pio XII ma quel che voleva dire viene inteso così da alcuni e il modo in cui viene inteso produce vere conseguenze tra cui anche il codice di Camaldoli io non sono stato personalmente in archivio segreto vaticano ma ho sguinzagliato una mia persona di fiducia per cercare tracce del codice che non ha trovato al momento io non so se ci sia nuova documentazione accessibile magari verrà fuori magari no poi Raffaella ne abbiamo discusso tante volte della chiesa di Pio XII fin da quando eravamo giovani ricercatori a Bologna ora tu sei sempre giovane io invece no comunque battute a parte ecco certamente poi ci sono tutte le durezze della chiesa di Pio XII di quel periodo ma direi che qui stiamo parlando d'altro potremmo mettere certo tutte le questioni della non democrazia in Spagna in Portogallo i modelli da cui alcuni guardano potremmo anche parlare dell'evoluzione invece degli studi biblici ecumenici liturgici mi sfugge sempre il quarto ma fa niente quindi so bene che il contesto è questo però io la vedrei più in questo modo qui probabilmente erano parole sconnesse dopo trovano meglio connessione se chiamiamo il giardino molto tempo vediamo il capo l'organizzatore capo e se ne è andato è fuggito e se ne dobbiamo andare per problemi di orologio e io qui ho un foglio che dice la sessione deve concludersi entro le ore 12 poi continueremo poi continueremo questo pomeriggio allora abbiamo 5 minuti non so se però interrompiamo qua Vox Populi Vox Day io direi facciamo delle risposte brevi in 5 minuti chiudiamo tanto poi c'è il pranzo quindi ci rilassiamo però almeno lasciamo un po' sì io direi che sì se vi va poi nel pomeriggio avremo un po' più di spazio quindi se qualcosa resta inesaurito lo facciamo non ma io dico solo una battuta perché in realtà moltissimi sono stati ulteriori spunti di riflessione e la battuta la prenderei da un punto di riferimento per me caro che frago sempre quando mi devo occupare di cose della vita politica dalla Spe Salvi dove dice la ricerca di giusti ordinamenti sociali non è mai un'opera semplicemente conclusa e poi va avanti dicendo che guai a chi provasse a offrire una proposta di ordinamento perfetto perché questo coarterebbe la libertà umana e quindi non sarebbe affatto perfetto io credo che noi dovremmo collocare questa riflessione sul codice di Camaldoli in questa prospettiva o se volete nella prospettiva del motore a scoppio cioè con una visione storica di ampio periodo e questo ci eviterebbe da un lato la mitizzazione ma anche dall'altro la smitizzazione di un documento che ha avuto un rilievo è un'incidenza importante ci siamo soffermati ho scelto di soffermarmi sui punti di forza non perché non avessi visto certe debolezze per esempio quelle sulla democrazia sulla laicità sull'organicismo ma perché a me pare che sia utile riflettere su questo documento per chiederci almeno questa è la prospettiva non dello storico ma del costituzionalista e di chi vive un servizio alle istituzioni al nostro paese oggi su cosa ci lascia tra le altre cose anche quella riflessione sul metodo che è stata fatta da ultimo sul metodo anche delle modalità di lavorare sicuramente sono uno di questi insomma un codice che forse ha tra i suoi punti di forza proprio la sua imperfezione su tanti temi e la sua inconfiutezza perché era un trampolino per un lavoro che sarebbe poi stato svolto tutto nel futuro grazie ma anch'io dico solo poche parole rilasciandomi gli interventi precedenti intanto se vogliamo capire il testo secondo me dobbiamo collocarlo molto bene non solo nel luglio del 43 ma anche nell'agosto e nel settembre cioè è un momento in cui si apre e poi si chiude rapidamente una finestra di democrazia o meno così viene vissuta anche dalla base cattolica cioè dal cattolicesimo organizzato è un momento in cui non si capisce bene dove si andrà a finire perché Mussolini è arrestato è tutto molto magmatico tutto molto in in vie e allora il testo sostanzialmente nasce per queste esigenze quello cioè di riuscire a orientare il cattolicesimo verso una certa maturazione civile cioè una partecipazione democratica che ancora non si sarebbe saputo quando sarebbe avvenuta né in quale precisa cornice costituzionale ma in ogni caso intendeva veniva almeno inteso il testo come una piattaforma culturale per far dialogare un cattolicesimo che si rimetteva in movimento in tutte le sue componenti quindi una componente associazionistica una componente sindacale ad esempio una componente anche politica con evidenti interazioni e anche possibili compromissioni con possibili anche diaspore ad esempio dall'azione cattolica all'impegno politico e quindi sostanzialmente il codice nasce come proposta per una discussione per questo che è un progetto storico e infatti non ha una cornice politologica poi così forte a parte sullo Stato sono quelle poi penso lo sentiremo lo vedremo meglio che forse dopo il 45 richiedono maggiore aggiornamento lo stesso quelle sull'ordine internazionale paradossalmente quelle più storicizzate sono quelle sull'ordinamento economico che sono anche quelle che poi rimandano alla strumentazione per costruire la giustizia sociale e quindi erano anche quelle su cui riuscire a far convergere il cattolicesimo molto plurale è un cattolicesimo che andava dal contadino della parrocchia fino agli organismi di Curio qualche anno qualche anno fa ho proposto un corso sulla teologia davanti al totalitarismo negli anni 30 perché mi intrigava questo problema perché si sono lasciati affascinare questi teologi dal nazismo nostro Adam aveva qualche simpatia nel 33 e mi sono convinto di questo che la teologia che sembrava più avanzata appunto quella tedesca che attingeva attraverso l'Ottocento a questa eredità romantica del popolo della nazione aveva strumenti meno efficaci proprio per comprendere questa differenza se si leggono gli articoli della civiltà cattolica nel 33 e 34 si vede come lo strumentario classico della neoscolastica è molto più efficace soprattutto in questa distinzione tra lo Stato e la nazione che non può essere identificato e che era uno dei grossi problemi questo è un primo dato interessante che ho cercato che starebbe implicito anche in questa polarità italiana tedesca che ho cercato di mettere in dice seconda cosa la cerchia montiniana recepisce questo impulso tedesco ma lo recepisce in modo selettivo questo lato politico è assolutamente censurato non è ripreso in alcun modo di Adam si valorizza la cristologia l'eclesiologia del movimento liturgico della Vat Herwegen si valorizza appunto la prospettiva di Guardini e questi e non certo le simpatie che Herwegen non nascondeva per il regime totalitario a me pare interessante questo aspetto e quindi anche il fatto che non ci sono mai travasi puri e semplici di impulsi e c'erano intellettuali che probabilmente avevano il fiuto per quello che si stava muovendo nella cultura europea e avevano anche sufficiente capacità critica per selezionare quello che serviva loro grazie